Azzurra, azzurra! Io, allora, come ho detto, visto che sono state fatte citazioni durante l'intervento e fatti personali, e in oltre 5 minuti, fatti personali, e per oltre 5 minuti c'è la possibilità di dare la parola a tutti i fatti di vita. E in oltre 5 minuti, fatti personali, il consigliere politico ha chiesto per 5 minuti, fatti personali, e per oltre 5 minuti, fatti personali. E' effetto, e' effetto. E' effetto, e' effetto, e' effetto. E' effetto, e' effetto, e' effetto. Perfetto, io non ho nessuno, non ho nessun tipo di problema, quindi a noi chi ti vuole scrivere a parlare dopo a vista la prestanza e la richiesta che viene dalla maggioranza del consiglio, io credo che possiamo di prendere nuova discussione, quindi ci tutti per ogni intervento, mi potete scrivere a parlare. Grazie a tutti.